No, no, lo facciamo da soli, stiamo facendo un video, avevamo anche qui un cameraman d'eccezione. Ah, capisci. Signore, questo è il signor Kini Gardner, insomma, qualcosa se ne intende, ma torniamo di qua. Ciao Mark. Ciao. Siamo con le dita incrociate. Anche io. Quando si parte? 29. Il 29. Il 29. E si arriva? Normalmente la gara finisce 18, penso. Eh, speriamo, è stato un buon anno, speriamo che continuiamo con la stessa... Continuiamo così. Noi dall'Italia teniamo le dita incrociate, facciamo il tipo e buona suerte, come si dice in spagnolo? Buona lupo, buona suerte. Ciao Mark. Ciao, grazie. Ciao, ciao.